Lean and green Lean and green, due termini inglesi che significano snello e verde. Lean and green rappresenta la metodologia che GCEP ha adottato e vuole portare avanti all'interno dei progetti che intraprende nelle aziende. Un connubio tra l'organizzazione snella, quindi una gestione efficiente e strategica dell'azienda con un'attenzione alle tematiche green. Per migliorare bisogna misurarsi, se non ti misuri non riesci a migliorare. Il senso di aver fatto bene una cosa è gratificante, il senso di farla in maniera proficua è tutta altra cosa. La metodologia Lean and green non è uno strumento applicabile soltanto nelle grandi aziende, ma è proprio per le PMI, le piccole e medie imprese e anche le micro imprese che rappresenta una grande opportunità. Tra i vari esempi di progetti vincenti che abbiamo portato avanti, merita di essere ricordato quello all'interno della carrozzeria Consato. Abbiamo iniziato ad applicare la Lean nel 2006 nella nostra attività e l'avevamo fatto proprio per una ricerca di riorganizzazione e creare una certa struttura in carrozzeria. Questa cosa non è decollata come piaceva a me e poi ho coinvolto anche mio fratello. Abbiamo cominciato verso il 2006 a fare le prime attività di Lean, che poi sono sfociate in vari settori, Lean Office, Lean and Green, a lavorare su tutti gli aspetti che abbiamo all'interno della struttura. La metodologia Lean and Green parte dalla misurazione di un indicatore sintetico che rappresenta l'impatto ambientale dell'azienda. Va a misurare l'impatto da una parte delle risorse che entrano in azienda e dall'altro delle emissioni che nel processo di trasformazione vengono generate. Quando abbiamo cominciato a mettere giù gli indicatori, i famosi KPI, qualche mal di pancia ci è venuto. Il problema più grosso per un'azienda per applicare la Lean sicuramente va sulla sponsorizzazione dalla parte dei proprietari. Da lì hai essenzialmente due problemi. Trovare il budget da investire e portare questa filosofia all'interno delle persone. Lavoriamo con le imprese perché siano eccellenti dal punto di vista organizzativo. Riducano al minimo i costi, riducano al minimo l'impatto ambientale, creino un sistema di lavoro sicuro. Noi di GCEP abbiamo un sogno, che tutte le aziende possano essere Lean e Green, e cioè Lean dal punto di vista dell'organizzazione, dell'efficienza, dell'efficacia, ma anche Green, cioè Verdi, e cioè con un basso impatto ambientale. GCEPart si è aiutato specialmente nei primi tempi con una visione esterna. A mantenere una certa cadenza e costanza nel cercare di fermarsi e cominciare a applicare i principi. Dopodiché ci siamo ribocati le maniche finché siamo riusciti un giorno con i ragazzi a mettere giù un progetto veramente sfidante e arrivare a indicatori per i vari servizi che facciamo molto sfidanti. La Lean ci ha permesso di trovare nuovi spazi e soprattutto di implementare in carrozzeria, nei nostri collaboratori, i germi dell'innovazione. Ci stiamo rendendo conto, nell'ultimo periodo, che uno dei problemi più grossi che abbiamo è la capacità di usare bene le risorse. L'impiego delle risorse è veramente strategico nel prossimo futuro.